Musica Buona domenica a tutti ragazzi sono Medino e bentornati sul mio canale con il diciottesimo episodio delle top 5 plays of the week La seconda volta che faccio questi commentari perché prima l'ho finito e poi mi sono dimenticato di salvarlo sono un genio della lampada iniziamo subito fortissimo al quinto posto troviamo Claudio Spazio Spazio vabbè Mason 1 che sta giocando su dominio veterano con un Vector Fa davvero una bellissima strage farà un'uccisione a catena davvero molto molto bella poi a guardare dalla disposizione delle bandiere credo sia anche in solo ma vabbè poi un attimo qua la rovina tenendo la tabella a punti aperta e come potete vedere fa l'uccisione a catena Arriviamo subito al quarto posto troviamo Nvidia Park che sta giocando nel ESL per chi non sapesse cos'è è tipo un torneo internazionale e cose simili su Black Ops 2 Sta giocando con la pistola sono già in vantaggio di un bel po' di round di CED e fa una triple rimane 1 contro 5 appunto è una specie di competitive anzi non una specie è competitive e gioca con la pistola E cosa fa con la pistola? Fa una cosa assurda secondo me perché rimanere da solo contro 5 e poi ragazzi quando si giocano queste partite gli avversari non sono mai scarsi E lui la finisce così 1 contro 5 solo con l'attacca 45 davvero complimenti Park grandissima clip Al terzo posto troviamo una clip di Ghost adesso ci terà a precisare che quelle di Ghost hanno più valore nel senso una cosa magari una quad feed su Ghost vale più di una penta su Black Ops 2 Tanto per lasciare intendere troviamo Enigma che sta giocando su Cerca e Distruggi Gli avversari sono solo 5 perché ho guardato uno non era ancora rientrato Uccide il primo nemico guarda sopra fa una quad feed assurda davvero bellissima una quad feed veloce e tutto poi non contento Scusate Continua a giocare vede che c'è ancora un nemico pensa che può essere qua lo guarda e lo uccide subito così velocemente Finisce il Cerca e Distruggi in una cosa come 10-20 secondi quindi assurda clip poi su Ghost molto molto bella Come potete vedere i nemici non sono morti tutti perché uno rimaneva li ha uccisi proprio tutti lui Uno non era entrato e quindi sì clip fantastica per Enigma complimenti il suo canale l'ho trovato in descrizione Al secondo posto troviamo Rexo Harp ovviamente credo sia un diciamo membro del clan Rexo che fa un'uccisione col VKS Un'altra uccisione col VKS switch collateral con l'USR e la chiude così con un altro quickscope Fa una cosa fantastica perché entra nella zona di lancio su Warhawk con il VKS con il termico e fa una doppia ovviamente non in quick perché con questa arma è difficile Switcha poi all'USR fa un quickscope collateral mira ancora pum e uccide anche il quinto Quindi ragazzi davvero clip fantastica per Rexo Harp complimenti Al primo posto troviamo una clip che ha fatto il nostro carissimo Zbika HD che davvero non mi sarebbe aspettato fosse capace di fare una cosa del genere Anche se è stato abbastanza sculato Sta giocando su Lega Moshpit quella senza restrizioni 6 contro 6 ma pur sempre Lega E E sì come potete vedere entra nella postazione e la copre tutta lui da solo cioè ne uccide un bel po' poi muore Rinasce e dice beh tiriamo l'Hellstorm Cosa fa con l'Hellstorm? Attenzione 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 Quintupla assurda anzi no scusate sestupla assurda Cioè li uccide tutti fa un full team di Hellstorm assurdo E fin qua dite vabbè una clip come tante altre Poi continua non contento muore Anche l'attacco fulminio decide di nascere lo lancia sempre sopra la postazione Accoltella perché già prevede e fa un'altra quintupla Davvero assurda una clip del genere perché già una quintupla non è facile poi due di fila sono davvero difficili Ragazzi infine vorrei sponsorizzare un mio amico che è Zen Che comunque mi aiuta spesso con i gameplay e poi anche un canale anche lui da 2600 iscritti Che non sono neanche troppo pochi E basta mi aiuta con i gameplay così è simpatico Quindi passate per fare un favore a lui ma anche a me per farmi vedere che comunque quando mi serve una piccola mano voi ci siete Comunque ragazzi qua il video è giunto al termine Vi invito a lasciare un bel mi piace un commento a mandarmi delle clip se passare anche dalla pagina facebook E se ancora non lo siete iscrivetevi al mio canale Quindi ragazzi per oggi Damminino è tutto e Bella